Sono i bambini del coro di Pechino i vincitori del Gran Premio del Polifonico che sabato sera nella splendida cornice del Teatro Petrarca si sono aggiudicati il massimo riconoscimento del concorso internazionale della città di Arezzo. È stato molto duro e molto però bello anche per i ragazzi, anche allo stesso tempo è molto difficile in quanto hanno dovuto sottoporsi allenamenti intensivi, una settimana soprattutto in cui hanno dovuto lavorare molto duro dato che hanno partecipato a molte categorie e quindi hanno dovuto imparare molti pezzi. È stato sottolineato da tutti come la qualità dei cori di quest'anno è particolarmente elevata, la musica unisce, la musica fa sì che tutti i popoli cantino la stessa nota allo stesso modo e questo è il bello della polifonia, il bello della musica e Arezzo ancora una volta si riconferma città capitale della musica. Veramente questo Polifonico è stato strepitoso, ha avuto grandissimo successo, di pubblico io incontro per strada, per il corso, gente che mi saluta e mi fa complimenti e sono molto molto felice. C'è stato un duro lavoro, mi hanno aiutato moltissimo anche gli altri perché da solo non si fa mai niente, comunque sono molto molto contenta. C'è stato un duro lavoro, mi hanno aiutato moltissimo, di pubblico, di pubblico, di pubblico, di pubblico.